ciao ragazzi e bentornati sul canale non avrei mai voluto fare questo video ho perso il mio avatar 1 volendo fare un long range sono stato veramente una fava e niente non mi sono accorto della batteria che la batteria si stava scaricando proprio ignorato il messaggio quando l'ho visto ormai era troppo tardi avevo già ben capito cosa sarebbe successo sono tornato nel posto tre giorni tre giorni di fila ma non c'è stato niente da fare una forza macchia e quindi quasi improbabile a ritrovare il drone adesso andiamo a vedere il dvr del video e commenteremo insieme l'accaduto qui vi risparmio la menata stavo solo aspettando che agganciassero i satelliti satelliti agganciati partiamo ciao 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 la destinazione se lo vedete da in cima alla collina c'è il castello di castiglioncello di bolgheri ecco qui primo avviso batteria scarica di tornare immediatamente che non ho proprio proprio visto me ne sono accorto quando sono arrivato su un cima al castello ciao ciao qui con la batteria al 38 per cento ho realizzato che non sarei mai mai tornato indietro in realtà me ne sono accorto dopo a che ho iniziato la discesa se no era molto si era più facile atterrare lì al castello e poi andarla a recuperare in qualche modo ci sarei arrivato ciao 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 in questo momento panico totale veramente veramente panico totale ripensandoci ora se state guardando il dvr sulla destra c'è un laghetto che io sinceramente lì a piedi ci sono arrivato anche lì poi a mente fredda e si ragiona sempre bene potrei sarei potuto atterrare lì in quella radura e andare tranquillamente poi dopo a prendere il drone qui siamo al 10 per cento 9 per cento ora due effettuerà l'atterraggio automatico e addio avata avata modificato con il kit dell'axis flame sia il frame e i motori più sopra la gopro hero 8 quindi ragazzi non fate la cazzata che ho fatto io mi raccomando se non volete perdere il vostro drone e per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video un saluto da mike fbb ciao